Una di Lucia Fusco, meravigliosa, e anche lei, non parliamo di prendere la musica, e anche lei, io, 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 io sono qui, e adesso vedete caramelle, ma chi sei? Io sono Lucia Fusco, e poi con voi, la Presidentessa del Lazio, dell'Italia, e organizzi anche le belle cose, e ci vediamo ogni tanto, perché Ischia è la mia seconda patria, io vado a Ischia, raggiungo quest'isola appena posso, da quando sono bambina, ho portato anche mia figlia, perché sono innamorata di Ischia, sono veramente contenta, oggi pomeriggio ho visto delle persone alle quali voglio bene, e voglio ringraziarvi tutti. Ho portato dei limoni alla vostra ea Chiara, questi limoni vengono da una pianta che abbiamo comprato con mia mamma quando ero ragazzina, a Ischia, era una piantina piccola piccola, e adesso è diventata una pianta meravigliosa. Questa è poesia, e questa è veramente una poesia, quindi io questa mattina, sapendo che venivo da Chiara, ho voluto portarle qualcuno di questi, sono brutti, stortignacoli, però non c'è niente, non ci sono veleni, non c'è nulla, quindi ci si possono fare i dolci, si possono spremere nell'alto. Anzi, sono anche medicinale, anti-tormorale. Io ho portato questa poesia, e poi invece voglio dire una poesia su Ischia. Adesso lei è rimasta molto colpita dal reggirazzo che noi stiamo vedendo da Ischia, per il grande, cosa che è bello. Sì, anche perché ho tanti amici, e quindi... E poi l'ultima cosa che volevo dire è che la mia poesia dedicata a Ischia è stata anche pubblicata sul tuo disparito. E quindi, grazie. Dici, che danno di meglio. Non vi passo, che danno di meglio, e non vi danno di meglio. E niente, è un'emozione. Ogni volta che vengo qui dalla nostra Chiara, grazie a tutti.